Garibaldi non è fuori dalla storia dell'Italia come non è fuori dalla storia dell'Uruguay. Così il sindaco di Castrovillari, Franco Blaiotta, sintetizza il significato della giornata celebrativa dell'eroe dei due mondi, organizzata nella terra del Garibaldino Giuseppe Pace in quella struttura, il protoconvento, che fu anche sede di una caserma a lui intitolata, affollata da studenti dei locali istituti superiori. Con l'ambasciatore dell'Uruguay in Italia, Gustavo Alvarez, il console generale dell'Uruguay in Italia, Org Serè, il console onorario Giorgio Rinaldi, il giornalista e scrittore Pantaleone Sergi, il sindaco Blaiotta e il presidente del parco, Domenico Pappaterra, è stata ricordata la storia di Garibaldi che proprio durante la prima emigrazione italiana nelle Americhe del Sud, nel 1835, si recò prima in Brasile e poi in Uruguay, dove fu pronto a combattere per i diritti soppressi. In Brasile, tra l'altro, liberò il primo schiavo 50 anni prima dell'abolizione della schiavitù. A Montevideo, in Uruguay appunto, trascorse un periodo di 7 anni durante il quale contribuì a liberare il paese da un dittatore brutale. L'Uruguay, quindi, terra che ha accolto migliaia di italiani nel nome del suo liberatore e dell'Italia e del suo risorgimento. Le sue gesta e la giornata del 24 novembre 2011 saranno ricordati da una targa scoperta a Palazzo Gallo, sede momentanea del Comune e dell'Enteparco del Pollino, che hanno organizzato insieme la celebrazione in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia. Sono già con il segretario comunale, avete notato? Sono già con il segretario comunale. Sì, sbotti, sbotti.